Allora Nabbo ti spacco 4 a 0 eh? Che pippa T'ho beccato in questo video ti ho fatto 0 a 4 vergognoso Adesso ci sono un numero di madonna di uccideri 5 secondi Dove sei Nabbo? Ciao Nabbo, come stai? Com'era? Adesso ti spacco 2 secondi è già perso Dai ti riesci a farmi sconchillo Spargo Moro, vai, ti faccio di tutte le cose Dai Nabbo Restano 5 secondi Il nemico non ha sovato con il sole Cercheranno di localizzarlo durante l'assalto Dai Bippa esci Bippa Ah, c'hai visto la Bippa Da Bippa Ma va Bippa? Vai Bippa, muori Fuori Bippa Uori NNI io non voglio parlare sono un hacker guarda come hai visto ma sei proprio un hacker quanto fa schifo un hub quella mira banana ma va a me piace che pippa veramente schifo provate il contenitore di biorizzo io ho il malone spacco io li faccio vedere tutto forte ti faccio sponchirlo vediamo dove ho il tuo drone dai poi non ne parlo vabbè i nostri cdm non parlano 10 secondi all'inserimento ottimo lavoro mi sa veramente oh qui il tuo drone però si distrutte il drone no nabbo raggiungete la posizione del contenitore di biorizzo adesso vedi madonna ti spacco 4 o no vieni qua nabbo nabbo sei proprio un nabbo sei guarda qua che è nabbo sei vergognoso sei non merdi di giocare non merdi di giocare pippa t'ho distrutto vergognati non c'è rispondo male così se fai spawn kill ti uccido subito barricate la stanza dobbiamo proteggere il contenitore di biorizzo dai pittà fatti sotto livello 229 oro 3 che pittà oro 3 che fa 0 kill in classe di data il drone nemico ha individuato il contenitore di biorizzo no no muori 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 sei roba da c'ho colpito in testa tu non muori se l'ha fatto vero dai bippa lasci bippa lasci bippa no bippa c'è sei mortale guarda che pippa che pippa vabbè incredibile incredibile che pippa con la mira banana mamma mia che vergogno proprio vergognati come fai a giocare così ma ti compro delle mani bello trovate il contenitore di biorizzo no no veramente ti compro delle mani ti compro delle mani ti compro delle mani e poi nemmeno parlo non ce le ha le pulisse oh ma che è non vedi il drone se mi festeggi da oggi i drone sono immortali oh te l'ho fatto di bene 5 secondi all'inserimento adesso vengo a sconchillarti male dai bippa dai bippa dai bippa dai bippa muori cosa cosa no io non parlo guarda guarda ma che bippa mamma mia ma come faccio giocare con te non gioco più ma fe' veramente schifo un hub assurdo c'è una pippa c'è una pippa poi c'è una mira banano mi sono vergognati e l'agorino guarda che si viene l'agorino per fare il filetto guarda che si viene l'agorino che poi si è appuntato con i cancri ma mi sponchino è bello vai vediamo io sponno volo tu via 10 secondi forza esci siamo a 5 secondi dai il drone nemico ha individuato il contenitore di biorischio ah bippa sei lì sei lì bippa esci dai esci bippa esci dai bippa forza vediamo se è così forte pure con la rella faccio di fare il filo pensi ho visto bippa non so che ho visto bene esci bippa e se devi andare a cura per fare il filo ecco di l'ho visto sei andato qui bippa posso solo camperando perché ho visto di fare il filo adesso ciao bippa bippa dai ciao nabbo fai schifo vai altrove nabbo oh mamma che pippa che sei vai dai a chiedere va sto nabbo di merda ragazzi Grazie a tutti.